Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale. Oggi parliamo di un caso che ha scosso il mondo del gossip. Coinvolgendo Sofì Codegoni e Alessandro Basciano. La turbolenta rottura tra Sofì e Alessandro è stata oggetto di discussione per settimane. Alessandro ha sollevato una grave accusa contro la madre di Sofì. Affermando che ha un'influenza negativa sulla ragazza. Ora, ci sono audio che sembrano confermare questa affermazione. Il portale Dillinger ha ottenuto alcuni audio in cui la madre di Sofì, Valeria Pasciuti, parla della figlia in modi inaccettabili. In uno di questi audio, sembra esortare gli autori a far indossare a Sofì abiti che mettano in risalto le sue grazie. Poi, in modo scioccante, afferma. Ci asterisco 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 o. Abbiamo lì una bambola. Non la stiamo sfruttando. Ma c'è di più. Dillinger ha condiviso un altro episodio che coinvolgeva la madre di Sofì quando la ragazza era nella casa del grande fratello Vip. Valeria Pasciuti sembrava interessata al fatto che Sofì non avesse avuto il ciclo per tre mesi e aveva persino inviato messaggi a un'amica. Suggerendo che sarebbe stato uno scoop mediatico se fosse stata incinta nella casa. Questa situazione ha sollevato molte domande sulla relazione tra Sofì e sua madre. E se Alessandro Basciano aveva ragione nelle sue accuse. Tuttavia, è importante ricordare che queste informazioni sono indiscrezioni e non ufficiali. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa storia in evoluzione. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale per rimanere informati su tutte le notizie più recenti. Grazie per essere con noi su Spotlight Stories.